di andare a vedere sotto la pancantare se ci sono ancora le ricerche di andare a vedere sotto la pancantare se ci sono ancora le ricerche di andare a vedere sotto la pancantare se ci sono ancora le ricerche di andare a vedere sotto la pancantare se ci sono ancora le ricerche di battista siete tanti perché manca malgrado non c'è di battista sempre ci dispiace tantissimo purtroppo molte persone sono rimaste fuori e abbiamo avuto qualche problemino però non ci aspettavamo assolutamente questa partecipazione la prossima volta la visione allora ok facciamo allora iniziere con le presentazioni qui abbiamo la mia sinistra Vito Crini se non erro l'originario siciliano però è letto nella circoscrizione di Brescia ricordo bene ok Vito se vuoi fare una breve presentazione lui è senatore io è senatore allora ogni volta che andiamo in giro vediamo queste grandi sale piene è veramente emozionante perché ci fa comprendere l'affetto che c'è intorno e la voglia di cambiamento e forse siamo sulla strada giusta e credetemi è sempre emozionante anche se passi dai comizi in piazza in cui ci sono 20.000 persone poi arrivi in giro nei singoli paesi e vedi questa realtà quindi la prima cosa che mi sento via è grazie grazie veramente di cuore e no vi dico subito una breve presentazione poi magari andiamo nel vivo di vicende fatti negli ultimi tempi mi conoscete un po' no io sono stato il sapete che riguarda penso che abbiamo già vinto quello che ho detto all'inizio io immagino che non tutti voi sarete attivisti qualcuno è venuto qua anzi spero molti per conoscere un po' di più il Movimento 5 Stelle già il fatto che ci sia questa curiosità vuol dire che qualcosa è cambiato mentre i portavoce parlano se vi vengono delle domande potete già dirle almeno le scriviamo poi le svisceriamo con calma ok bravo ok ho così già è arrivato il tiro di Lorenzo di Camera giusto? applausi applausi no prima di passare dobbiamo terminare con le presentazioni il turno di Barbara Lezzi abbiamo preparato una piccola cosina perché vieni Alessia lì? l'altro giorno come vi ho accennato prima c'è stata quella volgare aggressione della città da lupo e un piccolo pensierino delle donne è parte dell'Alessia sì inviolabili che appartengono all'individuo in quanto tale che nessuna norma potrà mai cancellare ed è il fondamento della democrazia stessa scene simili non si dovrebbero riprendere mai più né in luoghi istituzionali né altrove poiché il rispetto della persona umana è una priorità assoluta e nessun motivo può giustificare la prevaricazione della forza fisica sull'espressione della democrazia grazie grazie Barbara Lezzi Senato sì vengo molto l'occasione anche per ringraziare per questo pensiero molto legante e gentile che è stato offerto a me e poi porterò a Loredana e devo dire anche il mondo già che prendiamo spunto con orgoglio e fierezza che nel loro cammino che mi hanno portato fino a qui che è partito nel 2007 con il primo coup day io non mi sono mai sentita inferiore né usata in quanto donna né dal gruppo da cui provengo da Lecce né tantomeno del gruppo parlamentare in cui non ci guardiamo in faccia da quattro persone e a limite ci usano la gentilezza di tenerci la porta aperta se abbiamo le valigie in bar insomma e quindi è una cosa bellissima di venire da Movimento a quattro persone che mi hanno rincasciato alcune volte le vostre idea di questioni insomma irrilevanti da dire Ciao a tutti io sono Diego De Laurentiis sono un deputato alla Camera della Repubblica ovviamente e devo ringraziarvi perché mi è appena successa una cosa bellissima sono arrivato qui all'ingresso e per fortuna non sono stato riconosciuto non mi volevano fare entrare vuol dire che siamo rimaste persone comuni e che non siamo dei privilegiati ho dovuto spiegare insomma che avrei voluto fare anche l'incontro fuori con le persone che purtroppo non sono riuscite ad entrare e sono ovviamente a disposizione anch'io per eventuali osservazioni domande o qualcosa Sì allora come vi dicevo se avete domande come vi dicevo se avete domande iniziate così le scriviamo e poi le svisceriamo a mano scusate per l'attesa però se arrivano 200 domande i parlamentari sono 5 quindi bisogna purtroppo lo so ci sono dei tempi di attesa dopo toccarli c'è una domanda che mi era stata chiesta prima da Sergio Mertito Grini riguarda il decreto IMU che ha salvato e privatizzato la Banca d'Italia Allora sono Franco Lutano di Boggia vi saluto sono felicissimo con tutti gli amici che finalmente Sanzevito e quindi iniziamo la dame grazie a Dio ad avere questo saluto io sono felicissimo vi conosco anche se non ci siamo e forse i nostri fratelli e noi li seguiamo ma noi li seguiamo sempre quindi la domanda è quella io più che la domanda io faccio la proposta perché so che cosa fate poi mi ero fatta qualche altro tempo siccome nell'obbio c'è a volte il crimine e perché lo diamo io vi pregherei siccome sono almeno paretti anni che sei col bancario che sei signora Giofascari ma non è da me io vi pregherei anche se non te lo permetteranno però portate avanti e poi fate iniziare a capire ti chiede di andare sotto la panca di Italia fanno adesso sto cercando il volo di andare a vedere sotto la panca di Italia se ci sono ancora le vicende alle ma si sa che dovete fare questo perché no fate vittadini ai vestiti perché così porterete a conoscenza perché così porterete a conoscenza la gente che non lo sa che la panca di Italia è solo dal 5% della quota con l'inizio tutti gli altri sono delle banche sprivate bravo grazie